FIorentino-Dienese 3 a 1 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 4-2 della Roma, 4-2 è meno quello, ma noi 0-0, non ci serve Ma è entrato anche quel coglione di Pandev, sto interista di merda Che merda che è il Napoli, che merda proprio Niente dai 0-0, porca troppa Ma si, ora che merda No, ma adesso prendiamo gli ultimi minuti di recupero, speriamo in bene, forza Mina, sempre